Buonasera, eccoci! Dobbiamo dire che oggi è una giornata con molti fatti a partire dalla politica interna. C'è quello che è stato definito un terremoto politico a Roma, perché Forza Italia e in prima persona Berlusconi abbandonano la candidatura di Bertolaso per sindaco della Capitale e puntano su Alfio Marchini, provocando commenti sarcastici, ma anche molto duri, e i rati da parte del candidato centrodestra che è Giorgia Meloni e anche da parte di Matteo Salvini. Sembra una spaccatura non occasionale e non locale. Forse nasce una fase nuova della politica, comunque la pensiate, con uno stato di fatto di quattro poli, uno di destra più vicino alle destre populiste europee e non solo europee, uno di centromoderato, uno di centrosinistra, quello governativo, Renziano, e ovviamente i Cinque Stelle. Questo è quello che si configura, tra l'altro a favore di Marchini sembra rinunciare alla propria candidatura anche storace, semplificando ulteriormente la corsa che è di fatto, non ce ne voglia Stefano Fassina, a quattro appunto Meloni, Marchini, Giacchetti e la Raggi per i Cinque Stelle. Si vedrà, ma intanto questo è il fatto politico di prima grandezza che potrebbe appunto creare un nuovo scenario anche a livello nazionale. Renzi da parte sua ha preferito parlare di Campania, ma non per la vicenda che ha portato all'avviso di garanzia al Presidente di quella regione, del Partito Democratico di quella regione, ma col Presidente di quella regione, cioè Enzo De Luca, ha tenuto un incontro di quelli attraverso i social, Renzi, raccontando come la Campania stia cambiando, ma della questione della corruzione politica ha parlato il capo dello Stato e Mattarella ha avuto parole molto molto dure, apprezzate anche da tutte le opposizioni, ha detto che la corruzione politica è quella più grave, proprio perché viene da chi dovrebbe semmai dare il buon esempio, il più virtuoso esempio civico. Vediamo poi che sul Brennero c'è una sorta di tregua armata tra Italia e Austria, c'è stato l'incontro tra i ministri all'interno, a Roma, Alfano e la collega austriaca hanno detto innanzitutto che non ci sarà allo Stato attuale nessun bisogno di muri, ma certo la situazione è tutt'altro che chiarita e comunque Vienna scandisce di non avere in animo e di non avere attuato neanche con l'idea di una barriera nessuna violazione delle norme comunitarie. C'è una vicenda che ci riporta alle paure del terrorismo anche nel nostro paese, è stata sgominata una rete di jihadisti pronti a partire come foreign fighters per la Siria, per combattere insieme all'ISIS, le intercettazioni che ci sono state sui loro colloqui davano conto anche della progettazione di un attentato contro l'ambasciata israeliana a Roma. E poi ci sono altri fatti, le manifestazioni a Parigi, molti feriti, moltissimi arresti, sono proteste in tutta la Francia contro il Jobs Act in salsa francese, ma poi vedremo anche che oggi è una giornata importante e per alcuni controversa, è iniziato il super concorso della scuola e 165 mila insegnanti per 63 mila, 712 per la precisione, nuovi posti di insegnanti nella scuola italiana. Questo è altro, 30 secondi, i nostri titoli. A Roma Forza Italia fa ritirare Bertolaso e punta su Alfio Marchini, vogliamo riunire le forze moderate e liberali, spiega Berlusconi, durissima la replica di Meloni e Salvini, Renzi e Casini chiamano, il Cavaliere risponde, per Raggi Movimento 5 Stelle e Marchini non è libero dai partiti, come diceva nel suo slogan, e Giacchetti lo incalza dal PD, cambi slogan allora. Contro la corruzione abbiamo fatto molto, ma sono pronto a varare regole ancora più dure, così Renzi dopo le polemiche sulla giustizia e la vicenda dell'inchiesta della Campania. Per Mattarella la corruzione più grave è quella che viene compiuta dagli esponenti politici. Vertice a Roma, tra i ministri all'interno di Italia e Austria, sul Brennero, Alfano assicura abbiamo evitato la chiusura del Bali, che è una crisi con Vienna, il collega austriaco spiega che non ci saranno muri alla frontiera, ma solo controlli, restano attenzione e preoccupazione, giovedì Juncker, vede Renzi a Roma. Scoperta e smantellata in Lombardia una cellula dell'Isis, sei arresti, il gruppo composto da marocchini si preparava ad andare a combattere in Siria, ma progettava a quanto pare anche azioni terroristiche in Italia. Nelle conversazioni intercettate si parla come obiettivo dell'ambasciata d'Israele a Roma. Francia, scontri con la polizia, diversi contusi, feriti tra gli agenti, decine e decine di arresti. È successo a Parigi e in altre città durante la quarta giornata di mobilitazione sindacale contro la riforma del lavoro. Il è iniziato il concorso per gli insegnanti, previsto la riforma della scuola, segnerà oltre 63 mila cattedre per 165 mila candidati. Si prosegue fino alla fine di maggio con in mezzo però uno sciopero generale del mondo dell'istruzione, il 23 di maggio. Singolare, dice il ministro Giannini, proclamare proprio oggi questa protesta. Le risponde la Camus. Buonasera, il fatto del giorno è tutto politico, viene da Roma ma riguarda l'Italia intera perché si provoca con il cambio di cavallo in corsa da parte di Forza Italia una mutazione vera e propria di quello che è l'asse politico che abbiamo conosciuto in questo paese. Si entità coesa ma a sé stante il Cavaliere dopo la svolta annunciata domenica scorsa con il giornale una identificazione di Forza Italia come elemento portante del centro sembra scegliere di essere polo d'attrazione per i moderati, i vari partiti minori e forze minore che si sono andati disperdendo in questi anni nella diaspora di Forza Italia stessa. Ma il dato di fatto è che appunto si passa da Bertolaso a Marchini e anche Storace a quanto pare si ritira a favore del candidato centrista e questo provoca una serie di reazioni a catena. All'ultimo miglio Berlusconi cambia cavallo e punta sul centro. Guido Bertolaso si ritira dalla corsa per il Campidoglio e il Cavaliere sceglie Alfio Marchini che incontra al mattino a Palazzo Grazioli. Non solo ma da Forza Italia si fa sapere che anche Storace lascerà campo libero allo stesso Marchini anche se le strette di mano che avete visto risalgono allo scorso venerdì. Una svolta politica che fa infuriare gli ex alleati Salvini e Meloni e sigla la rottura nel centro-destra che a questo punto corre non solo con due candidati, la Meloni da una parte e Marchini dall'altra, ma con due diversi progetti politici. Destra l'epinista contro centro moderato, il modello che non a caso tre giorni fa Berlusconi rivendicava come vincente e fondamentale per tornare protagonisti della scena politica. Siamo tornati su Marchini che era la nostra prima opzione, caduta per i veti posti da un alleato della coalizione, spiega Berlusconi in una nota. Questo è l'unico obiettivo che abbiamo a cuore, per questo ci auguriamo che tutto il centro-destra che non vuole consegnare Roma ai grillini o alla sinistra possa ritrovarsi e riprendere un cammino comune. Difficile, Salvini accusa, Renzi e Casini chiamano, il Cavaliere risponde, continua l'incredibile balletto di Forza Italia. Noi andiamo al ballottaggio come Lega con la Meloni. Chi vuole si aggiunga, però non abbiamo più tempo da perdere dietro alle bizzarrie di gente come questa. Con Marchini un pattone del Nazareno rincara una delusa Meloni. La confluenza di Forza Italia sulla candidatura di Alfio Marchini mi convince ancora di più della bontà della scelta di candidarmi perché dimostra qualcosa che ho sempre temuto e cioè Berlusconi a Roma non vuole vincere. Evidentemente c'è alla base un patto con Renzi e è l'unica cosa che giustifica una scelta così folle. Ma Forza Italia compatta sostiene la scelta. Anche la parte che avrebbe preferito riunire il centro-destra dopo un vertice convocato a cose fatte, plaude. Meglio schierarsi che restare nella palude e rischiare l'estinzione con un candidato poco aggregante come Bertolaso che oggi dopo il passo indietro dice ho deciso di sedermi in panchina per favorire l'unione dei moderati. La scelta di Berlusconi apre infatti una nuova prospettiva politica a ricostruire il cantiere moderato. Si riunifica il fronte con Alfano e Casini, entusiasta della novità. In Roma si trasforma in laboratorio politico. Anche gli avversari degli altri schieramenti reagiscono con fastidio alla novità. Ma non lo giudico, nel senso che non mi interesso di queste cose. Io mi occupo di Roma, dei problemi di Roma e non dei problemi del centro-destra. Tutto qua. Ma non temo nessuno. La RAG ironizza con un tweet. Oggi cade anche la maschera di Marchini, da liberi dai partiti alle nozze con Berlusconi. L'interessato, le cui quotazioni sono improvvisamente salite fino a ipotizzare un arrivo al ballottaggio, risponde così. Le alleanze ci fanno liberi tra liberi per liberare Roma dai chi è ridotto in questo stato della città. Questo è quello che è successo a Roma. Vedremo come e quanto influirà sulla politica nazionale. Certo, in questo momento Salvini e Meloni sembrano lontani davvero anni luce da Berlusconi e da chi con lui ha fatto la scelta di puntare su Marchini. Una scelta di cui il Cavaliere sapeva benissimo qual era poi l'effetto per quella che è stata l'alleanza di centro-destra. Eppure è una scelta che ha fatto. Vuol dire che davvero la scena politica, il quadro politico si sta chiarificando nel modo che vi dicevo. Una destra populista, chiamiamola così, quella impersonata da Salvini e Meloni. Un centro con Berlusconi ma anche attorno a lui con Casini, Alfano, tutte le figure della ex diaspora, ormai la possiamo chiamare così, di quella che è stata Forza Italia, la forte Forza Italia che abbiamo conosciuto. E poi però ovviamente il PD Renziano e anche come forza di opposizione e su Roma anche fin qui la favorita il Movimento 5 Stelle. Come influirà Roma? Vedremo. Sicuramente c'è un'altra vicenda che sta influenzando come si sa la politica e quella campana. Oggi l'ha presa di lato, se così possiamo dire, ma in maniera perentoria proprio Matteo Renzi. Io non sono uno di quelli che si accontenta. Io ho fame di risultati e quindi ogni volta che esce una storia di corruzione mi indigno, mi arrabbio. Ma quello che deve essere fondamentale è che tutti insieme sappiamo riconoscere che ci sono distinzioni tra intere categorie e singoli che commettono errori. Non si può sparare nel mucchio se dici che sono tutti uguali, poi i ladri la fanno franca contro la corruzione. Abbiamo fatto molto ma sono pronto a fare regole anche più dure. Matteo risponde diretta sui social network. È la modalità scelta dal Premier per il contrattacco dopo il cortocircuito con l'ANM di Davigo e soprattutto dopo lo scandalo Campania con il presidente PD sta Efano Graziano, indagato per presunte collusioni con la Camorra. Nessun accenno all'inchiesta, il consigliere regionale che si è autosospeso dal partito non viene citato né da Renzi né dal governatore campano Vincenzo De Luca che lo raggiunge per la diretta a Parazzocchigi. Rispondere con i fatti è la linea e si parla del patto sulla Campania con De Luca a rivendicare di essere in prima fila nella lotta al malaffare. L'autorità anticorruzione controlla le nostre gare d'appalto, ricorda. Non c'è una regione in Italia dove i livelli di trasparenza siano garantiti in maniera così rigorosa, quindi nessuno ci dia fastidio su questo piano. Fenomeni di corruzione o addirittura di connivenza con criminalità organizzata e quelle vanno stroncate senza pietà e entrare alle gambe in modo deciso a condizione naturalmente. che a farlo siano le sentenze, le indagini dei magistrati e delle forze di polizia e le sentenze dei tribunali. Da Fiesola all'inaugurazione della scuola superiore della magistratura ha parlato il Presidente della Repubblica. Mattarella invoca una grande alleanza tra le forze sane del Paese per combattere la corruzione. Un impegno, dice, di sistema, non solo di un corpo dello Stato. Gli attori della politica per la loro parte devono aggiungervi la consapevolezza che la corruzione in quell'ambito è più grave perché nell'impegno politico si assume un duplice dovere di onestà per se stessi e per i cittadini che si rappresentano. Ma se l'accordo di maggioranza per accelerare sulla riforma della prescrizione invocata dalle toghe sembra riaprire un dialogo come chiede il Capo dello Stato. Pier Camillo Davigo torna a dire che ormai i politici scoperti a rubare neppure strillano come una volta, anzi dicono che male c'è e che vent'anni dopo Tangentopoli si può dire che è fallita la rieducazione. Speriamo non proprio la rieducazione, non fosse quello lo scopo, ma certo la polemica sulla giustizia resta fortissima. Ce n'è però pure un'altra che non abbandona il primo piano è le prime pagine dei giornali ed è la questione dei profughi, dei migranti, del braccio di ferro tra Italia e Austria. Oggi c'è stato l'incontro diretto tra i ministri degli interni dei due paesi. Fino ad ora abbiamo evitato la chiusura del Brennero ma non so se in via definitiva dobbiamo lavorarci sopra. Queste le prime dichiarazioni del ministro dell'interno Alfano al termine dell'incontro al Viminale con il suo collega austriaco Sobotka. Tema ovviamente la rete metallica lunga 370 metri e alta 4 presidiata da centinaia di gendarmi e soldati che l'Austria vuole costruire al Brennero. Non sarà edificato alcun muro al confine appuntualizzato Alfano cui ha fatto eco seppur in separata sede rispetto al titolare del Viminale in una conferenza stampa all'ambasciata austriaca. Anche Sobotka il quale ha sostenuto che si tratterà di una barriera solo se sarà necessario ha aggiunto faremo controlli con traffico rallentato e sui treni come accade già sul confine austro-ungherese. Alfano ha assicurato che l'Italia dimostrerà che si tratta di soldi buttati, che non c'è alcun allarme circa un flusso straordinario di migranti e che comunque verrà rafforzata la presenza delle forze dell'ordine ribadendo però che ai poliziotti austriaci non sarà consentito fare controlli sui treni in territorio italiano. Un chiarimento, quello odierno, che lascia sul tavolo tutti i problemi aperti da quella che il Premier Renzi ha definito una sfacciata violazione delle norme europee, accusare spinta con fermezza dal ministro dell'interno austriaco che rischia di costare una fortuna in termini economici e di mettere una pietra tombale su Schengen. Una situazione che allarma la Commissione europea. Bruxelles segue con grande preoccupazione e valuterà le misure austriache secondo i criteri di necessità e proporzionalità. La questione sarà inoltre al centro dell'incontro tra il Presidente della Commissione Juncker e Renzi giovedì prossimo a Roma. Anche il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, oggi è intervenuto sull'emergenza migranti. Le restrizioni crescenti e i flussi migratori hanno un impatto negativo sugli impegni sanciti dalla legge internazionale, le sue parole. Abbiamo un obbligo morale e legale nell'aiutare coloro che fuggono dalla guerra, dagli abusi dei diritti umani e dalle persecuzioni. Lo ha detto proprio dinanzi a quel Parlamento austriaco che sta approvando misure draconiane in tema di diritto di asilo con il governo che potrà dichiarare lo stato di emergenza qualora il numero dei migranti dovesse improvvisamente aumentare e dunque respingere la maggioranza dei profughi direttamente al confine. Per chi pensa, teme anche legittimamente che tra i tanti profughi si possano celare persone animate da spirito di rivalza nei confronti dell'Occidente, insomma, dei terroristi c'è una storia che conferma quello che già si sa in Belgio come in Francia. I jihadisti sono semmai già tra noi e magari hanno già la cittadinanza dei nostri paesi o quello italiano oppure comunque hanno permessi di residenza. Lo conferma anche la storia della cellula che è stata sgominata in Lombardia. Erano pronti ad andare a combattere per l'ISIS ma intanto progettavano di compiere attentati in Italia, incitati da un loro connazionale già combattente che pochi giorni fa aveva inviato a uno di loro un appello. Caro fratello, ascolta lo sceico e colpisci, se fai un attentato è una cosa grande. E' l'allarme rosso per l'antiterrorismo italiano, la prova che non si tratta più di proclami ma di minacce concrete. Tra gli obiettivi principali il Vaticano, l'aeroporto di Roma e l'ambasciata di Israele. Si fa riferimento a Roma con questa giustificazione particolare che in questo momento è la città del pellegrinaggio e comunque il centro della cristianità e la città che dà la forza per tutte le azioni che secondo questa visione sono commesse in danno poi dei musulmani. Segnali allarmanti per un'inchiesta rapida che ha portato a sei ordinanze di arresto di quelli che gli investigatori definiscono possibili lupi solitari. I fermati tutti i marocchini sono il 28enne Abderaim Mutawrik, campione di kitchboxing di levatura internazionale. Si allenava in questa palestra a pochi chilometri da Lecco, dove viveva. Tra le sue tante foto e postate su Facebook gli incontri sul ring, una sola a ricordo di una manifestazione pro-palestina in piazza Duomo a Milano. In un'intercettazione prometteva che se fosse riuscita a mettere in salvo la famiglia nella terra del califato avrebbe attaccato in Vaticano. In manetta è finita anche la moglie, Salma Benkarki, 25 anni e marocchina anche lei. Un altro dei fermati è il 23enne Abderamane Caccia, di Brunello in provincia di Faresse, disoccupato, appassionato di calcio che sul suo profilo Facebook si definiva razzista. Già conosciuto alle forze dell'ordine perché è fratello di un presunto foreign fighter, espulso dall'Italia nel mese di gennaio dello scorso anno e probabilmente morto in Siria mentre combatteva per l'Isis. La quarta persona fermata è Vafa Karayki, di 24 anni, cameriera in un locale di Lesa, sul Lago Maggiore. Sul suo cellulare gli inquirenti hanno trovato le foto di quattro bambini, tra i dei quali figli del fratello che in uniforme inneggiano al martirio. Il fratello di Vafa è Mohamed Karayki, sparito insieme alla moglie di origine italiana lo scorso anno. Lei è Alice Brignoli, 39 anni di Bucciago in provincia di Lecco, che si è convertita all'Islam con il nome di Aisha. I due sfuggiti alla gattura perché già in addestramento in Siria avrebbero fatto da tramite per far arrivare al fronte Isis i loro amici. L'accusa per tutti è di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. Dal kickboxing alla jihad è la storia che ha dell'incredibile, ma che ci dimostra come in molti, soprattutto i coloro che ci sembrano i più naturalizzati, i più bene addentro nella nostra società, poi qualcosa dentro lavora. Se c'è il richiamo non soltanto di una guerra civile sanguinosa, ma anche del rischio della possibilità di compiere attentati qui da chi li ha accolti e ci saranno polemiche inevitabilmente. Ma l'aspetto dei foreign fighters, delle persone pronte ad andare a combattere e a morire in Siria, continua a essere il più preoccupante, anche perché dalla Siria arrivano notizie che ci fanno capire come il famoso cessate il fuoco, la famosa tregua, siano alle spalle. Catastrofica così il vice segretario generale responsabile degli aiuti umanitari delle Nazioni Unite, Stephen O'Brien, ha descritto la situazione ad Aleppo in Siria, davanti al Consiglio di Sicurezza riunito d'Ulgenza, per discutere una risoluzione a protezione delle strutture sanitarie. Le immagini sono sotto gli occhi di tutti, almeno 30 morti civili nel bombardamento dell'ospedale, supportato da medici senza frontiere, secondo Staffan De Mistura, inviato speciale dell'ONU per i negoziati in Siria, nelle ultime 48 ore c'è stato un morto ogni 25 minuti. Non solo il rischio è che a centinaia di migliaia di siriani bloccati in zone Cuscinetto non arrivino più gli aiuti necessari a sopravvivere per la chiusura dei corridoi umanitari e la mancanza di protezione dei convogli. Di fatto la tregua negoziata tra Stati Uniti e Russia non esiste più, per questo De Mistura la prossima settimana sarà a Mosca nel tentativo di riportare due grammi di sponsor interventi, internazionali, a fare pressione sui propri alleati perché venga garantito il cessate il fuoco. Precondizione necessaria a ridare vigore al processo di pace ad un punto morto, proprio mentre si apriva la tornata decisiva, quella che doveva discutere del futuro di Bashar Assad. La scorsa settimana l'opposizione ha sospeso il suo ruolo già ambiguo di negoziatore indiretto con il governo del dittatore. L'accusa è che dietro la maggior parte delle violenze sulla popolazione civile ci sia proprio l'esercito e soprattutto l'aviazione di Assad, supportata dai jet russi che continua a negare esattamente come ha fatto oggi di avere bombardato l'ospedale di Aleppo. Che la situazione si stesse rapidamente deteriorando, lo si era capito da tempo con la scelta resa nota all'inizio della settimana da Barack Obama in visita in Europa di aumentare il contingente americano in territorio siriano. 150 istruttori militari sono già sbarcati nella cittadina di Irmelaïn in zona kurda con il preciso scopo di creare un esercito in grado di fronteggiare proprio quello del dittatore e di combattere, anche se ormai sembra un obiettivo secondario per tutti, la presenza dell'ISIS. Torniamo in Europa. Quante polemiche ci sono state, quanta battaglia verbale e anche politica e sindacale quando fu introdotto il Jobs Act in Italia. Qui squilie rispetto a quello che sta succedendo in Francia. Parigi, Nantes, Rennes, Marsiglia, Bordeaux, Grenoble. La quarta giornata di mobilitazione in Francia contro la cosiddetta Loire Travail porta in piazza migliaia di persone, scatena scontri ed incidenti dovunque. Nella capitale, dove secondo i sindacati i manifestanti erano 60.000, molti meno secondo la polizia, le violenze sono cominciate all'ingresso del ponte d'Osterlitz, quando pietre e bottiglie sono piovute sulla testa degli agenti. 24 poliziotti sono rimasti feriti, tre in modo serio, decine di persone sono state fermate. Altri scontri si sono avuti in diversi quartieri della periferia, ma il copione è stato più o meno lo stesso in tutto il paese. Improvvisamente gruppi di contestatori mascherati, i cosiddetti casseux, hanno approfittato della confusione per scatenare la guerriglia urbana. La grande mobilitazione contro la legge voluta dal ministro del lavoro, Miriam El Khomri, aveva preso il via il 9 marzo scorso. Il 31 dello stesso mese è la prova di forza più imponente, un milione di persone in strada, secondo i sindacati. Adesso l'atmosfera si sta surriscaldando in vista di due appuntamenti fondamentali, le manifestazioni del primo maggio e, due giorni dopo, il momento in cui la proposta del governo inizierà il suo cammino parlamentare. Come il Jobs Act, la loi travail si presenta come una legge pensata per cercare di combattere il fenomeno della disoccupazione, che ormai da anni in Francia si attesta intorno al 10%. I sindacati ribattono che in realtà si tratta di un testo che fa solo grandi concessioni agli imprenditori. Molta più flessibilità salariale, licenziamenti facilitati, diminuzione delle garanzie, insomma una serie di passi indietro nel campo delle conquiste dei lavoratori. Ma è su questa legge che François Hollande, presidente in netta crisi di popolarità, e il suo primo ministro Manuel Valls contano per rilanciare la competitività dell'economia francese. Per evitare lo scontro a sinistra, il governo ha accettato di apportare alcune modifiche ai punti più contestati del provvedimento, ma con l'unico risultato finora di scontentare anche gli imprenditori. C'è un'altra manifestazione sindacale in vista, è stata proclamata da CGL Cislewil del settore scuola, proprio nel giorno in cui è stata convocata, ci sarà poi verso la fine di maggio, proprio nel giorno in cui oggi è iniziato il super concorsone, perché un'emfatizzazione sia col superlativo sia con l'accrescitivo, perché è un concorso che porterà a 63.712 assunzioni di insegnanti. Partecipano al concorso 165.000 precari aventi diritto. Le polemiche si sono sprecate, ma stamattina poi alla fine è andato tutto liscio o quasi. Preceduto, accompagnato e seguito da mille polemiche, è iniziato questa mattina in tutta Italia, appuntamento alle otto in punto, il concorsone della scuola riservato ai prof precari. La scena è questa, i primi 1.900 candidati, sui 165.000 iscritti in totale, seduti nei banchi di scuola per affrontare la prova scritta, la prima con l'utilizzo del computer nella storia della scuola italiana. C'erano tre generazioni insieme a confronto, gomito a gomito, nello stesso concorso, da chi è nato negli anni 50 fino ad arrivare agli anni 80. La posta in palio è la conquista di una delle 64.000 cattedre messe a disposizione dal Ministero. Decreto buona scuola e fine della supplentite, ha promesso Renzi. Oggi è toccato agli insegnanti di storia dell'arte, tecniche agrarie e liuteria. Hanno risposto a otto domande in 150 minuti, poi in estate, per chi avrà superato la prova scritta, ci saranno gli orali. Con questo concorso verrà immesso in ruolo un insegnante su tre, su dieci candidati otto sono donne, età media, 38 anni e mezzo. Ha messo solo chi ha un tirocinio e ha già lavorato da almeno tre anni. Tra i banchi preoccupazione, ansia e qualche polemica. Forse si poteva fare in altro modo, però insomma si prova. Abbiamo pagato, abbiamo studiato, abbiamo superato una presselezione, uno scritto, un orale e tanti esami all'interno del TFA. Adesso siamo di nuovo qui, a 34 anni, ancora a fare gli studenti. Non è molto bello. In mattinata erano girate voci che in alcune sedi erano dovuti intervenire i carabinieri per denunce di irregolarità. Sulla rete molti gruppi di insegnanti precari hanno protestato definendolo un concorso truffa per via di presunte commissioni incomplete e mancanze di griglie di valutazione. Concorso truffa, fanno eco in Parlamento i 5 Stelle. Tutto regolare, assicura invece il Ministero. E proprio mentre si sta svolgendo il concorsone, arriva la dichiarazione di guerra dei sindacati che riuniti per una protesta in piazza Montecitorio a Roma annunciano uno sciopero generale del settore il 23 maggio prossimo. Trovo singolare proclamare uno sciopero contro un governo che assume ed annunciarlo nel giorno in cui parte un concorso da 64 mila posti. Questo è un governo che investe nell'istruzione 3 miliardi di euro in più all'anno. Rivendica e lamenta il ministro dell'istruzione Stefania Giannini. Le risponde il segretario generale della CGL, Susanna Camusso. La ministra, invece di lamentarsi, dovrebbe proporre l'apertura di un confronto contrattuale perché il concorsone non elimina i problemi della scuola. Ci sono novità che vengono annunciate come importanti dalle parti dell'Agenzia delle Entrate. Un fisco più umano, un fisco amico del cittadino. Quante volte avete sentito queste dichiarazioni negli ultimi decenni da parte dei ministri economici, sul riscontro quotidiano di queste promesse ciascuno poi ha la sua opinione, che dipende dall'esperienza personale con l'Agenzia delle Entrate e con Equitalia. Ebbene, Rossella Orlandi, il direttore dell'Agenzia, oggi ha scritto una lettera ai suoi dipendenti, il cui messaggio è il seguente. Poiché chiediamo soldi ai cittadini, dobbiamo fare in modo che il nostro atteggiamento sia ispirato sempre a correttezza, imparzialità, equilibrio e collaborazione. Dobbiamo evitare che comportamenti superficiali, arroganti o vessatori dei nostri dipendenti portino ulteriore legna al fuoco dell'evasione, perché il rischio è di inimicarsi chi paga le tasse, chi ha senso civico. Un sistema equo si basa non solo sulla lotta ai disonesti, ma anche sul mantenimento della fiducia con gli onesti. Ora, non sappiamo se ci sia un nesso di causa ed effetto. Fatta sta che nella lettera la Orlandi attacca, senza citarla, striscia la notizia, che a suo dire porta avanti una campagna denigratoria che va al di là del diritto di critica e sconfina nel vilipendio. La trasmissione del Gabibbo di recente ha realizzato dei servizi con interviste ad ex funzionari dell'Agenzia col dente avvelenato e a proprietari terrieri che si sono visti contestare il valore dei terreni con multe salate che hanno preferito pagare per evitare problemi. Il tutto con lo stile di striscia. Alla fine hanno pagato, perché quella è l'Agenzia delle Entrate. Rossella Orlandi denuncia, poiché non c'è stata collaborazione con i giornalisti di Antonio Ricci, noi non abbiamo risposte e ci rivolgeremo alla magistratura. Su questi episodi la Orlandi ricorda che una recente circolare dell'Agenzia stabilisce appunto che il contribuente deve poter esporre le sue ragioni prima di essere oggetto di accertamento e non dopo. Altra rivoluzione copernicana, annunciata, il fisco dovrà evitare di sprecare energie con contestazioni formali o di piccolo importo e concentrarsi invece sui grandi evasori, su concrete e rilevanti situazioni di rischio, come ad esempio le frodi. Ormai è uno sport nazionale prendersela con i giornalisti, con i programmi, con le televisioni. Tutti speriamo abbiamo le spalle larghe. E c'è una notizia invece che fa vedere come le spalle larghe dello sport a volte si confrontino con durezza. C'è una presa di posizione di Tamberi, il nostro grandissimo atleta del salto in alto che, lo possiamo dire, al di là della scaramanzia potrebbe conquistare una medaglia ai prossimi giochi di Rio contro un altro campione che le Olimpiadi le ha già vinte, che è Alex Schwarzer, che come sappiamo è il marciatore che vinse a Pechino otto anni fa, ormai che poi fu squalificato per doping. Scontata la squalifica, Schwarzer sarà a Rio de Janeiro anche lui per la 50 km di marcia. Ebbene Tamberi ha scritto sulla pagina Facebook, no non ho mai pensato, di doparmi parole durissime. Vergogna d'Italia, squalificatelo a vita, la nostra forza è essere puliti, noi non lo vogliamo in nazionale. Questa sì, è una tempesta davvero pesante per il nostro sport. Dopo di noi gli ospiti di Lili Gruber a otto e mezzo sono Rosi Bindi e Marco Travaglio. Ci fermiamo. Il segretario dell'ONU, Ban Ki-moon, ha attaccato duramente il governo, l'autorità siriana per il bombardamento di Aleppo, definito inscusabile. Le parole sono state molto dure nei confronti appunto del regime di Assad. Aggiungiamo che la borsa eminale è andata bene, più 1,21 e sta andando male, invece quella di New York, meno 0,45 del Jones. È tutto, Gruber, è poi eccezionale veramente, a domani.